45esimo episodio di risposta scombo terza volta che ci provo ce l'ho fatta a metà vabbè però non era colpa tua dai una volta ti ho interrotto io una volta la tua dislessia esatto è uscita ma buon 2021 buon 2021 primo episodio di risposta scombo come è iniziato questo 2021 uguale al 2020 posso dirlo sì con un altro piglio adesso c'è la questione del mio nuovo lavoro domani comincio una nuova avventura lavorativa quindi un po' di ansietta un po' di cosette però sì comunque è iniziato onestamente la casa messa super a soquadro dal capodanno con i bambini e con i botti e dalla necessità assolutamente di mettere a posto perché sennò qui non se ne esce signori se avete avuto due figli in età di 8 e 6 anni lo sapete benissimo anche voi a cosa mi riferisco direi in bocca al lupo per la nuova esperienza lavorativa da parte mia e di tutti gli scombisti dai gli scombisti alla grande come state voi scrivetelo nei commenti come il vostro 2021 è iniziato alla grande e soprattutto porterà grande magiche novità assolutamente sì la buona notizia del 2021 secondo me è magic perché i nuovi set tematicamente a me ispirano un botto e oggi vediamo quali saranno i nuovi prodotti e anche quelle che sono secondo noi le cose che usciranno in questo magico 2021 questa puntata ovviamente è dedicata ai prodotti che sono stati annunciati ma come sapete seguendo lo state of the game di magic arena tante cose che in questa puntata non verranno trattate saranno chiaramente oggetto di cambiamento e quindi di una nuova uscita su magic arena e sono cose imprevedibili mi riferisco per esempio alle remastered no c'è nel senso cala del salmon cat queste sono cose che loro annunciano a maggio e poi escono ad agosto e noi chiaramente non possiamo parlarne qui adesso anche se potremmo parlare potremmo cominciare parlando di paio nel remastered anche se non c'è una data non c'è una data non c'è una data però quello è sicuramente un remastered che indicativamente uscirà nei primi tre mesi secondo me vedendo un po' con la rapidità con cui escono i remastered dovrebbe uscire effettivamente a breve poi tra l'altro dovrebbe essere tipo l'ultimo il set quasi che poi insomma che porta il pioneer quindi partiamo subito dicendo 2021 sarà l'anno del pioneer su magic arena così wow lot take lot take tra l'altro ma c'è bisogno questo l'abbiamo già detto questo l'abbiamo già parlato poi historic va già bene così ma non lo so più carte in historic in realtà perché no farlo diventare pioneer sappiamo che non diventerà pioneer a me piacerebbe vedere anche più anthology cioè carte vecchie riportate su arena e giocabili in historic invece che vedere un remastered piacerebbe vedere un pioneer su historic una volta che fanno pioneer remastered tutte le carte ci sono in pioneer fanno la ballist come quella cartacea e dicono ecco pronti adesso in poi su arena si gioca standard pioneer e historic a me piacerebbe perché sarebbe uno di quei formati che posso giocare su arena testare su arena e poi andare a giocare in cartaceo è quello che io ho sempre voluto fare con arena cioè allenarmi tra virgolette poi io non è che sono proprio il competitive player da prendere ad esempio però giocare su arena il mio deck che gioco in cartaceo questo è sempre stato il mio sogno io non sono un giocatore di standard pioneer potrebbe come dire assecondare questo mio sogno quindi io sinceramente pioneer non l'ho più seguito però se arriva su arena magari inizia anche wizards a seguirlo di più sì diciamo che il destino di questo pioneer è un po' insomma legato a quello della pandemia mondiale perché se no sicuramente il formato sarebbe stato molto più seguito dalla casa madre in generale più divertente in generale con più ribaltamenti di fronte e così via se lo dovessero riprendere in mano con la ripartenza degli eventi cartacei potrebbe essere interessante con tutto che per ora questo 2021 in verità dovrebbe essere l'anno di un altro formato eterno visto il considerato cash un prodotto a cui moltissimi sono legati e che moltissimi attendono con ansia ma vogliamo andare con ordine? sì no io partirei visto che siamo su arena volevo anche dire che questo sarà l'anno di magic arena sul mobile ormai è sicuro 100% 2021 arriverà sul mobile doveva arrivare a fine 2020 adesso non hanno più scuse nel range di un anno uscirà sicuramente arena sul mobile visto che ancora oggi molti mi chiedono ah quando arriva su end nel giro di un anno speriamo non di 365 giorni insomma e dai io immagino doveva arrivare con syndical rising immagino arriverà con caldame quindi fine mese questo speculazioni eh hot take ma secondo me esce con l'uscita di uno dei set standard vedremo quando saranno pronti come sempre meglio far uscire magic arena che funziona al 100% su mobile invece che accelerare farlo uscire solo perché deve uscire certo certo vabbè questo non c'è dubbio beh tu sei d'accordo con me che questo è l'anno del mobile di magic arena o pensi che lo rimanderanno no 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 che lo rimanderanno no fabbri però bisogna vedere poi questo prodotto cioè è giusto anche noi non diciamo sarà l'anno del mobile perché è vero che noi lo aspettiamo tantissimo perché darà una spinta al gioco su mobile giocano tutti arston è diventato strapopolare quando era su mobile eccetera però bisogna vedere se funziona non è il tema della puntata di oggi solo hype buoni propositi credo no cioè non lo so vedendo quanti problemi hanno deve funzionare bene cioè diciamo che per come hanno gestito il gioco pc non sono pienamente ottimista perché poi magic non è airston quindi messo su mobile speriamo detto questo ci sono stati un po' di mesi tra virgolette di immobilismo a livello di feature su magic arena magari è perché appunto hanno migliorato il software io sono un perenne ottimista a inizio anno poi a fine anno no è il momento in cui faccio i video sfogo no lo fare dovresti fare i video sfogo tutte le volte che succedono delle cose su cui ti devi sfogare eh lo so ma il concetto io inizio anno sono ottimista sono successe tante volte però continuiamo a parlare di questo 2021 quindi l'anno del mobile sì e poi cominciamo ad aprire le danze tra pochissimo con Caldame di cui abbiamo già parlato set super metal abbiamo parlato del marketing non abbiamo parlato delle carte a me sì a me sì e poi ovviamente faremo la puntata sulle carte di Caldame faremo anche la puntata sulla lore di Caldame faremo un sacco di contenuti hai visto qualche cosina che ti interessa di chi mi vuoi parlare io sono qui e mi io te ne dico una eh che mi piace proprio come design sì che è il dio bianco che ha la spada la spada e il tipo che dà doppio attacco mi piace proprio il design e l'idea di avere una bifronte modale che non è solo una terra ma è a seconda della situazione giochi o l'equipaggiamento o quello che tipo potenzia le creature equipaggiate quello come design mi è piaciuto un sacco poi tra l'altro considera che ha alcune diciamo implicazioni il fatto che sia una modale vuol dire che lui ha convertito Magost quattro in mano quindi con Inquisition of Kozilek non ti possono scartare l'equip ma non lo puoi neanche prendere con mistica è vero sono cose così però ribadisco mi piace il design di una bifronte che si porta presso non più solo una terra ma anche un equipment e questo apre delle prospettive interessantissime per il set hai visto le nuove abilità quindi Boast e questi altri le ho viste le ho viste fortel fortel mi ricorda fortel io sai che forse sono ma perché non ne possiamo parlare Simo perché sai che noi siamo spesati da wizard corrotti maledetti schiavi del potere come ci dicono quando arrivano questi soldi non lo so non arriveranno mai però sono state liccate non sono ancora state annunciate ah ok quindi non possiamo parlare ok no perché io non ho manco capito bene come funziona c'è tipo un modo per risparmiare male c'è questa creatura che costa 5 ma lo puoi pagare 2 a una certa e quando non c'è niente da fare con il mana paghi 2 e lo esili e poi lo fai a 4 esatto esatto lo puoi fare a quel che ho capito perché appunto non essendo ancora stata annunciata manca un po' di ruling da quel che ho capito tu hai questa carta che costa 5 mi pare con fortel 4 tu la fortelli a 2 un turno anche a turno 2 a turno 3 però è al tuo turno perché se fosse stato instant sarebbe stato no sarebbe rotto no no questa guarda noi ne dobbiamo parlare ma ne parleremo ne parleremo ok non vuoi che le dico quindi la mia dai dilla dilla mi sembra una grande idea questa meccanica non lo so non lo so non mi pare ispirata eh eh ti ricordi l'abilità morph si me la ricordo che avevi però era tipo questa è tipo morph però la carta si esilia va via si esilia non te lo uccidono e non metti in gioco il 2-2 si non te lo uccidono dall'altra parte non è un 2-2 che mena pim 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 che è certa vabbè ok ci sta secondo me non abbiamo gli elementi ancora e allora non è giusto non avere gli elementi quindi però hype si o no è quanta a questo punto facciamo una puntata speciale da 0 a 10 Aguirre e Zio Carbe ci danno l'hype per per ogni 7 esatto hype se Zendica Rising era 7 Calde è 8 8 io hype per questa espansione direi 7 non di più il tema metal e il marketing metal si molto belli il tema snow covered permanent a me piaceva che dovrebbe essere comunque è un po' un ni vediamo vediamo potrebbe esserci effettivamente qualcosa di interessante però devo dare un voto rispetto soprattutto al resto dell'anno no? quindi anche io ho pensato a quello quindi 7 per Caldeim vai ti do solo le date di Caldeim giusto quindi iniziano gli spoiler dal 7 di gennaio dal 28 di gennaio sarà rilasciato su Magic Arena dal 29 al 31 ci sarà la pre-release cartacea vediamo come si è ammessi a livello di pandemia e il release ufficiale in cartaceo è il 5 febbraio quindi vi abbiamo dato anche le date invece un prodotto dove io ho parecchio hype che non arriverà su Magic Arena quindi sarà un prodotto solo cartaceo è Time Spiral Remastered eh già Time Spiral Remastered che invece è un prodotto insomma per gli amanti del cartaceo molto molto interessante per ora spoilerata solo una carta Lotus Bloom questa è ufficiale se non sbaglio sì sì e credo solo quella o sbaglio Lotus Bloom però la cosa che a me ha mandato fuori di testa è che le foil avranno la foilatura quella vecchia quella con la stellina questo che manda eccezionale ah ok figo oddio mi è partito il video di presentazione di Lotus Bloom quindi si sarà sentito sì 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 ok ti piace il frame vecchio sì a me il frame vecchio io mi chiedo perché l'abbiano tolto ma è quello che aprivi il pacchetto e vedevi la stellina diciamo minchia che figato che figato no io non siccome non giocavo all'epoca perché io ho rigiocato da dopo quindi quando le foil sono cambiate sono non sono molto legato a questo tipo di foliatura no no perché non ho mai aperto quei pacchetti lì cioè io considero appunto ho giocato all'inizio del gioco e poi ho giocato da Scarce of Mirror di Ninfoil quindi aprire la foil per carità figo perché non diciamo di no però questa differenza tanta non la vedo a me chiaramente invece il set mi ispira molto perché mi piacerebbe draftarlo anche se esatto chissà se perché il lavoro che hanno fatto sui set diciamo o remastered o di novità però basati cioè come target i giocatori di formato eterni hanno sempre avuto dei draft molto belli anche quello di Commander Legends mi hanno detto che è molto bello e Time Spare all'anime secondo me non sarà da meno il prodotto ripetiamo esce solo in cartaceo quando esce? l'unica data che abbiamo è il 19 marzo ah il 19 marzo comunque ci sarà anche Calice del Nulla Path to Exile ci sono un po' di cartelle però appunto tutti con questo frame vecchio quindi è un prodotto che dedica anche un po' di energia di design ai nostalgici alla nostalgia è strano perché non lo fanno mai di recente Wizards è andata su effetto nostalgia a manetta dai come strategia di prodotto sì già solo lanciare Magic Arena con Ravnica è stato una botta di nostalgia ok però dai ti riferisci un po' di tempo fa io invece penso che in quest'anno soprattutto nel 2020 loro hanno guardato molto al futuro e non al passato sì è vero tante che hanno fatto delle cose che hanno fatto incavolare tantissimo i nostalgici e i fan di Magic diciamo quelli hardcore no? quindi sì è vero e ho cancellato un po' dalla mia ottica al 2020 tipo io i companion non me lo ricordo neanche più come sono capito sono stati i companion allora da Inspiral 2 Remastered comunque è sicuramente un prodotto che aspetto se non lo potrò draftare lo drafterò su MTGO probabilmente sì non lo aspetto per questioni cartacee perché io non credo che da quella espansione mi servano poi delle carte importanti da quell'espansione da quello che ci sarà dentro quindi ti dico il mio hype dipende dipende cosa ristampano perché se seguono l'ottica non ho capito se è solo un Remastered dove ristampano o se pubbliceranno nuove carte no 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 sono tutte ristampe questo lo so al 100% sono solo ristampe però non credo che siano ristampe solo del blocco Time Spiral che poi nel blocco Time Spiral c'è Visione Futura quindi è uno di questi blocchi più particolari della storia di Magic per chi non lo sapesse diciamo che le carte di Visione Futura sono quelle carte che hanno anche dei frame completamente diversi dalla carta normale tipo Grove of the Burn Willows o appunto River of Tears che viene da lì no non vorrei sbagliare River of Tears sì sì assolutamente sì e dicevo è stato fatto un patto tra virgolette tra Wizard of the Ghost e la sua fanbase perché Time Spiral dovrebbe cioè scusate Visione Futura conteneva delle carte anche dal futuro di Magic cioè l'idea di quel set è queste carte un giorno le ristamperemo in dei set normali quindi un giorno Tarmogoyf dovrebbe tornare eccetera però per ora ancora se ne sono viste poche qualcuna si è vista tipo Aven Mindcensor è tornato e così via però Time Spiral Remastered promette di portarle più o meno tutte adesso di nuovo al pubblico solo cartaceo quindi se ci fossero stati i GP e se ci fosse stato un GP all'estero il mio hype per un set del genere sarebbe almeno 9 almeno perché giocare con quelle carte nei draft è veramente bello purtroppo devo assestarmi che il mio hype vero è 6 perché a me del set interessa poco perché le foilature non è che sono io non sono un collezionista quindi trovare la carta con il frame speciale mi interessa anche di meno per non mi pimpo il mazzo modern le carte le ho quindi sei tu? io ho 10 per una questione nostalgica nostalgica perché Time Spiral è proprio stato uno dei set che da ragazzino coi miei amici ho sbustato di più draftato di più mi compravo i precon li potenziavo cioè era proprio il magic figo ed è dove ho iniziato a deck buildare cioè la mia passione del deck building è nata grazie anche a Time Spiral e quindi per me è 10 per una questione nostalgica non so quanto lo giocherò voto pieno tondo incredibile incredibile 10 non so dove lo drafterò cosa farò della mia vita però quanto costerà perché poi se i pacchetti sono prezzi spropositati obiettivamente anche no detto questo le premesse per farmi scendere la lacrimuccia ci sono ci sono ok detto questo si passa all'espansione che sarà l'espansione gemella di Coria no quindi uscita di Coria l'anno scorso ad aprile e adesso uscirà sempre ad aprile una certa Strixhaven School of Mages School of Mains di Airston no scusate ho sbagliato il gioco sappiamo poco di questo set pochissimo pochissimo effettivamente quindi possiamo sicuramente dare le nostre come si dice speculation sì speculazioni io già l'ho detto io vorrei tanto vincere la mia scommessa che ci sarà legato a marketing esatto un marketing legato a Harry Potter però spero che quando si avvicinano gli spoiler tutti dovrete tornare sul mio canale a dire a chi era c'avevi ragione cose del genere però per ora chiaramente con le informazioni che abbiamo in nostro possesso ti dico a me l'idea della scuola dei maghi comunque piace come lore come setup e va detto questo nell'anno allora mi sono lamentato mi sono lamentato tanto che Wizard usasse recentemente sempre le solite ambientazioni che l'hanno resa famosa e si torna su Zend e si torna su Teros e si torna tutte le sue cose e se le sta rivendendo proprio a manetta quest'anno invece tre ambientazioni su quattro sono completamente nuove quindi io sono contento di tuffarmici forse mi da un pochino più di hype rispetto a Caldame perché appunto lì tornano gli Snow Permanent non so se mi interessa ma invece in Strix 7 prevedo cose nuove quindi il mio voto è 8 8 mannaggia solo per vincere la mia scommessa ok no io non ho hype per Strix 7 ma perché mancano cose per cui avere hype a me se devo valutare l'ambientazione la scuola di magia non so non mi ispira come Caldame Caldame invece è sti cacchio di vichinghi arrabbiatissimi nella neve mi ispira di più però anche io apprezzo il fatto che non siamo tornati per l'ennesima Zendikar ma è un nuovo set vediamo io do un 7 sulla fiducia perché magari c'è qualcosa di tolaria forse 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 figo figo beh effettivamente ci potrebbe essere qualche capo mago queste potrebbero essere speculazioni interessanti all'interno di Strix 7 chi sono gli insegnanti io Urza Urza potrebbe essere un insegnante no? e magari potrebbe essere Yagmoth anche se Yagmoth è più un cattivo professore fisico ha capito pure in Harry Potter ci stanno i buoni i cattivi Voldemort ormai tu sei partito sulla strada Harry Potter lascia perdere Voldemort immagino ci siano degli antagonisti no? se scuola di magia gli saranno dei maghi buoni e dei maghi cattivi no? si si poi magari è il set dove che ne so metteranno istantanei e sorcery leggendari quindi magari che ne so una leggendaria che dietro invece che avere l'equipment si porta o un incantesimo o una sorcery o un instant se continuano sul trend delle bifronte modali potrebbe essere un anno molto interessante per magic anche a livello di proprio deck building io credo che non ci libereremo presto tra virgolette della meccanica e sono contento perché tutti i giocatori giovani di magic si lamentano si lamentano tanto che magic è legato troppo legato al passato a una meccanica arcaica mi viene detto addirittura come quella delle terre io non sono d'accordo su questa affermazione però le carte bifronte aiuteranno sicuramente a farci un po' dimenticare il problema del flood il problema dello screw perché a un certo punto potrei avere mazzi già esistono o il spells che vabbè quelli sono tutti mazzi combo però in generale magari li puoi avere quando non saranno mazzi combo perché riescono a fare veramente un utilizzo minore di terre perché hanno queste terre che entrano tappate o stappate potrebbe essere interessante potrebbe essere interessante quindi l'unico predict che mi viene da fare per strict saven è che ci saranno ancora le bifronte modali a manette sicuramente sì sicuramente sì questo vedremo però non ho così tanto hype ho più hype personalmente per il 7 no il voto non mi hai detto però 7 7 ah se quindi tu hai caldame 8 time spiral 10 strict 7 ok vai ho più hype per il set co-branding con dnd bene qui sicuramente dungeons and red adventure in the forgotten realms porterà sicuramente magic a uno stato evolutivo maggiore vedrete tantissimi influencer personaggi che comunque sono legati al mondo dei giochi di ruolo che fanno giochi di ruolo dal vivo che verranno sicuramente invitati a far pubblicità a questo set che gli verranno inviate delle carte che verranno magari spoilerate delle carte questo quell'altro è perché il nome Dungeons & Dragons e poi il nome Forgotten Realms è una roba come si dice a Roma una roba veramente veramente gigante e io personalmente dal punto di vista dell'hype e del gameplay sono molto contento di vedere delle carte perché sono sicuro di questo che si incroceranno con Zendigan Rising che è una delle mie top espansioni degli ultimi anni perché molto potente ma non troppo con meccaniche bilanciate a parte Omnath infatti tutte le carte sono rimaste in tutti i formati che sono state super impattanti da insomma da Skyclade Apparition a la la Zero Zero come si chiama Scourge of the Skyclade a tutte le modali alle Boltland e così via ma una meccanica non ha funzionato competitivamente la meccanica party che mi piace un casino sono sincero a me piace veramente molto quella meccanica se con Dungeons & Dragons Adventure of Forgotten Realms questa meccanica verrà spinta e funzionerà magari standard super hype super contento della cosa e quindi è un set che attendo veramente molto a braccia aperte anche e soprattutto dal punto di vista del gameplay sì sono d'accordo su tutto la cosa che è interessante è che va a sostituire i set base se che avevano tolto i set base poi li hanno rimessi di recente i core set e solitamente sono i set una cosa che va detta sono sei set pensati per i nuovi giocatori con roba tra virgolette più vanilla cioè senza abilità mostruose difficili più o meno e poi erano i set che spingevano meno come marketing cioè i core set non avevano un trailer avevano un po' negli ultimi anni il background di alcuni planeswalker però erano core set invece adesso c'è un'uscita importante d'estate sì non lo so c'è un forse anche un po' poca chiarezza da questo punto di vista di wizard perché era già successo le avassero i core set tu te lo ricordi ci erano poi le hanno rimessi di recente magic origins doveva essere l'ultimo core set giusto mi pare di sì non c'è più stato per un po' il core set poi è tornato e io ero onestamente contento a me del core set cosa dà fastidio il draft perché solitamente il draft dei core set solitamente sono molto ripetitivi sono sempre hanno più o meno però poi non è manco verissimo perché alcuni sono comunque più interessanti dipende sempre come li bilanci è molto difficile bilanciare un draft e un limited ragazzi infatti io vi consiglio sempre di giocare non solo costruito ma draft e limited perché magic è bellissimo soprattutto in draft e limited dicevo e in questo cosa c'è stata un po' poca chiarezza allora se dico questo set avrà un draft migliore perché non è un core set sono contento anch'io però a me solitamente il core set è quella cosa che non lo so è un po' come il natale sai che deve succedere succede e alla fine sei contento che esista cioè ti dà un ritmo no? ok c'è il nuovo core set fammi vedere quali sono le scarte che ristampano esatto la ristampe non lo so è un momento che comunque a me non dispiace della mia vita di giocatore di magic l'appuntamento col core set è tranquillo è tranquillo negli ultimi anni hanno fatto delle mega ristampe con gli ultimi corsetti non mi pare abbiano detto nulla sul perché quest'anno non ci sarà un core set e vanno a inserire un set che a livello di marketing visibilità ha una rilevanza importantissima importantissima non c'è dubbio su questo cioè o quest'anno spingono come i matti e dicono sai che cioè spingiamo ogni singolo set standard e quindi non facciamo il core set perché anche quest'estate noi spingiamo magic e mettiamo la bomba che è il set su dnd oppure il core set evidentemente non vendeva non lo so qui piani a lungo termine un po' difficile non vendeva però aveva delle ristampe mega non era uno degli anni in cui magic non lo so magari sbaglio forse allora secondo me pensate a livello di scrittura a livello proprio solo ed esclusivamente di uno che lavora all'interno dell'azienda il core set un po' ti limita sì sì sicuro oddio lì perché fai le storie sui planeswalker però ti limita perché se tu vuoi una storyline di un certo tipo ma anche un gameplay di un certo tipo sai che dovrai tornare sul core set sempre sai che il core set dovrà avere determinate cose sicure invece se fai un'espansione che non si chiama core set cioè metti che fanno una il prossimo anno sarà altro Dungeons & Dragons ma anziché Forgotten Realms a Ravenloft no? vabbè che è stupido perché in verità hanno già Innistrad di cui parleremo tra poco però in un altro mondo di Dungeons & Dragons e ogni anno ci ritroviamo l'espansione di Dungeons & Dragons un po' è quella cosa che dicevo prima che sai che deve uscire ed è una sicurezza no? quindi sei contento che ci sia e dall'altra sarà sempre un constraint tu vorresti creare i vichinghi la scuola dei maghi Dungeons & Dragons e Werewolves cioè Innistrad e non puoi perché c'hai qualcosa che è incastonato allora magari come designer vai alla porta di sopra e abbassare a Mark Roswell e gli dici Mark Mark rosa acqua senti però quest'anno non facciamo il corset perché io mi sarei rotto le scato di scrivere le cose per il corset e Mark dice no aspetta fammi bere un po' di acqua annuso una rosa sì ok facciamo così ti piace questo battaglia? sì mi è piaciuta molto questa scena me la sono proprio immaginato io sono molto bravo a fare le imitazioni telefoniche quindi possiamo rifarle vuoi parlare nuovo format nuovo format comunque livello di hype personale 9 io sono andato salendo 7 8 9 penso no no io ho 8 come Caldain ok vai passiamo siamo pronti? siamo pronti qua è terreno tuo ah voto hype per me 10 voto hype secondo me per tutta la gente 10 modern horizon 2 modern horizon 1 è stato uno dei set più fighi allora da draftare ragazzi è stato fantastico io ci ho fatto anche un gp a copenhagen bellissimo meraviglioso ridatemelo vi prego secondo me come impatto che ha avuto sul formato tra virgolette che gli dà il nome e poi in generale su tutti gli altri formati sì c'è ogak sì ogak è stato un problema ma quella era l'unica carta veramente strasbagliata che c'era nel modern horizon le altre erano sbagliate in determinati contesti per n6 in legacy non si poteva vedere era troppo forte astrolabio in pauper ragazzi doveva essere non comune quella carta evidente con tutto che poi è stato bannato anche in modern soprattutto poi con l'avvento di omnat hanno fatto bene però secondo me non era oppressivo e poi a me mi faceva giocare urza quindi ma tutto il resto del set è pieno di carte fighissime con cui loro hanno aggiustato un sacco di problemi perché va detto gli ha dato atto force of negation ha aggiustato un sacco di problemi ne ha creati di altri molti dicono di sì molti dicono di no io sono tra quelli che penso assolutamente di no le varie forze in generale sono state tutte utilizzate la forza verde in vintage una powerhouse permette tantissime cose che prima non si potevano fare tipo spaccare le line a turno zero in generale comunque è un set amatissimo dagli appassionati di modern ma amatissimo dagli appassionati di magic perché le bombe stampate sono ancora qui a far parlare di loro season of piromancer appunto rennesix per quanto riguarda un formato dove non c'è wasteland e così via io sono super hypato per me tutto quello che ho detto fino adesso può essere completamente cancellato per me l'anno si può iniziare e chiudere il modern horizon 2 sperando a quel punto veramente che tornino i gp perché se dovessero esserci gp per la data di modern horizon 2 prendo l'aereo quindi facciamo una macchinata ok a te ti interessa ovviamente solo cartaceo cartaceo mtgo ah si è vero i set standard sono calde strixhaven dnd e poi innistrad di cui parliamo dopo allora a me modern horizon era piaciuto ai tempi anche se non giocavo più a modern però l'avevo seguito l'avevo draftato con i miei amici è sempre stato un set apprezzato dai più ovviamente ci sono alcune macchie cioè ogak è stato l'inizio del periodo ban si è vero quasi lì quello è stato forse non proprio l'inizio era appena ucciso war of the sparks però eh ma insomma si abbiamo atto che war of the sparks probabilmente come power level era più insano di modern horizon sì è vero è vero credo cioè non lo so però non avevano bannate però insomma c'erano carte che hanno rovinato lo standard anche lì bannate in su arena non lo so war of the sparks lo sai che i planeswalker con l'abilità statica non ci stanno simpatici no? no no lo so benissimo sì ma continuo ancora a dimenticarmi questi maledetti non ce la faccio mai mettetemi un incantesimo qualcosa con l'abilità statica ma non i planeswalker però sì anche io sono in hype e sono set fighissimi da draftare perché minchia hai un power level fuori e sono anche uscite tante carte per commander sono set figo che è tornato modern horizon vero vero ma poi è un bel brand cioè è una bella e comunque l'abbiamo detto più volte è proprio una bella idea fare dei set che non sono in standard ma con carte nuove e che impattano solo i formati eterni così che non rompono standard perché sono troppo potenti e nei formati eterni riescono a trovare spazio perché comunque non è che modern horizon il primo è stato un successone come power level cioè sono entrate chiaramente a far parte del modern del legacy del vintage alcune carte a periodi alterni per esempio urza il mio amico urza il mio insomma best best friend urza ora non si gioca più praticamente nella sua parte esistono dei mazichi però chiaramente c'è il ciclo delle ecco gli artefatti dobbiamo aspettare anche modern horizon 2 soprattutto per gli ultimi 3 equip che chiuderanno il ciclo probabilmente ci saranno ma le spade di modern horizon hanno fatto schifo non si hanno mai visto gioco da nessuna parte poi prismatic vista è una carta che vede gioco ovunque kiver of runes sicuramente plague engineer è una carta eyesight che si è vista tanto all'inizio ora non si vede più e ice fan coat era uno staple adesso si vede solo di veri ex drinker sì no ma forse quindi cioè comunque ha portato tante cose questo è stato veramente figo c'è una carta come area of flame che è presente in quel set e che sta pure a pochissimi soldi perché appunto si vede gioco solo in delle side però permette a storm di avere un piano b non basato sulla stormata insomma sono hanno secondo me sono stati bravi a cogliere determinati problemi di alcuni formati e a riempirli poi su certe cose hanno esagerato ogak è evidentemente un errore di design detto questo hype 10 basta io però quoto tutto quello che hai detto cioè abbiamo detto nel corso di risposta scombo più volte interagiamo con i formati eterni non con i set standard ma con set come modern horizon così siamo tutti contenti esatto così siamo tutti contenti vai l'ultima parte dell'anno quindi dopo quest'estate tra l'altro modern horizon è estate esatto mentre il primo modern horizon è uscito tra l'equivalente di strict 7 e l'equivalente di dungeons and dragons quindi tra war of the sparks e quello che c'era dopo modern horizon uscirà proprio in estate quindi secondo me avendo preso spunto da quello che è successo quest'estate per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus che c'è in atto in tutto il paese spero che questo podcast come al solito vi trovi bene speriamo e forse loro effettivamente un pensierino a lanciare comunque anche con degli eventi cartacei modern horizon 2 lo stanno facendo si può essere che hanno scelto l'estate anche per questo strano no però è pure vero che c'è time spiral tra caldame strict 7 quindi forse effettivamente è per quello però io sparo la mia cavolata e spero che sia vero tutto qua speriamo ok dicevamo quindi dopo l'estate si torna a settembre a settembre ci sono i rimandati e quindi sui banchi di scuola rimandato cioè Innistrad il primo set che effettivamente riprende un'ambientazione del passato di Magic the Gathering primo set o primi set esatto perché sono due Innistrad questa è una cosa molto particolare ancora purtroppo non è dato a sapere niente però certo se qui si sta parlando di hype non abbiamo ragazzi nessuna informazione da aggiungere rispetto a quello che abbiamo già detto cioè il nuovo set di Innistrad per quanto riguarda la release schedule di Me Wizard of the Coast è diviso con due simboli non era mai successo mai direttamente e con due nomi direttamente sulla timeline quindi Innistrad Werewolves o Innistrad Vampires si suppone che no non è vero non si sa niente a chi era suppone che questi due set verranno vendute in bustine completamente diverse o sei tra i Werewolves o sei tra i Vampires se ti serve una carta che vuoi trovare nei Werewolves ti compri le bustine dei Werewolves se no ti compri quelle dei Vampires e quando drafti come drafti non so non ne ho idea credo che la cosa più sensata sia far draftare tipo se ci sono 16 persone 8 con i Werewolves 8 con i Vampires e poi chiaramente per quanto riguarda giocare giocano tutti insieme a tutti però solo questa cosa di aver messo due nomi eccetera a me mi fa salire un hype eh sono troppo curioso vorrei saperne di più capito poi Innistrad sia io che te la mi amo Innistrad io l'anchissimo sai che un po' ecco effetto nostalgia cioè io mi riavvicino al gioco con Scars of Mirrodin ma è con Innistrad che mi siedo veramente ai tavoli di draft a fare tornei a vedere le espansioni gli spoiler a vedere i primi mazzi su internet eccetera e continuo a dire che quello del primo Innistrad è uno dei limited più riusciti della storia di match ma ne avevano già parlato sul limited esatto secondo me veramente non lo so non lo so allora il mazzo lupi mannari è stata croce delizia ai tempi dove io mi ostinavo a giocare questo deck schifoso e arrivare ultimo a tutti i tornei ma ero contento dei miei lupi mannari che con la carta che li flippava tutti perdevo perché faceva schifo quel deck però mi piaceva un casino i lupi mannari come meccanica che dovevi flipparli poi c'era anche il tuo amico Garruk sono grandi grandi c'erano un sacco di unità un sacco di cose fighe erano stati dei grandi spero che siano dei grandi anche per questo Innistrad Werewolves Innistrad Vampires il mio hype comunque è alto certo dargli un voto perché ho dato Modern Horizon 10 Dungeons & Dragons 9 c'è capito che è alto solo per quelli due se fosse stato un altro set di Innistrad sono sincero lo amo quello che vuoi ci voglio tornare ma a scatola chiusa non so niente gli avrei dato 6 anche solo per rispettare che è un voto che non ho dato 7,8,9,10 non ho dato 6 col fatto che ci sono questi due simboli io ripeto il mio 9 ripeto il mio 9 perché allora a prescindere è rivoluzionario a prescindere è rivoluzionario ma perché sono due set in uno ma non lo sai non lo sai talmente non sai niente puoi solo fare come ho fatto io ti lanci rimane qui ad imperitura minoria i tuoi figli potranno venire qui a vederlo quando sarà troppo tardi avrei detto una grossa cazzata e ti puoi lanciare dicendo secondo me succederà secondo me ti dico due cazzate la prima esce Innistrad a settembre Werewolf e Vampires a dicembre come due mini set pim pum pam proprio 150 cart 150 cart esatto e adesso te ne dico ancora una peggiore questo è un trip paura che non ci sarà il draft sarà un set senza draft e giocherai simil jumpstart cioè per draftare crei un deck con una bustina Werewolf e una Vampires e non ci sarà il draft chaff sai comuni non comuni no alla jumpstart io capisco che ti sei voluto lanciare mi sembra un po' esagerata no la roba dei due set ancora c'ero ma non c'è il draft sarebbe una roba epocale cioè veramente solo pre-release e stile jumpstart sarebbe un trip però dai non piacerebbe io voglio draftare tu vuoi draftare egli vuole draftare però una cosa rivoluzionaria nel 2021 osiamo la gente vuole tirargli le carte addosso perché non si non si trova c'è il problema poi su arena l'hanno lasciato poco non era divertente troppo bla 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 però la gente è piaciuto un sacco ai jumpstart ah si ah si è piaciuto un sacco poi in cartaceo non ovviamente non è decollato vabbè è chiaro però io io voglio una roba così rivoluzionaria di questo tipo non succederà te lo dico io non succederà bravo zio garbe bravo l'ho sparata altissimo il cuore oltre l'ostacolo il cuore oltre l'ostacolo bene così un altro predict secondo te quante carte verranno bannate nel 2021 ti do ti do aspetta mi sono salvato lo screenshot dei ban degli scorsi anni però mi devi dire in che formato perché a me cioè ragazzi parliamoci il problema dei ban del 2020 è il problema dei ban standard che era un formato ingiocabile polarizzato ed è il formato su cui loro puntavano di più è il formato che però giochiamo di più ma hanno bannato moxopal in modern cioè alla fine rosico solo io di quel ban tutti gli altri o astrolato cioè non non lo so secondo me è giusto che certi equilibri nei formati eterni si rompano e che si proceda con un ban o un ban per aggiustare quell'equilibrio e rendere quei formati come i giocatori vogliono giocare cioè il modern è un formato ormai a cui tu sei tu quando entri a fare una partita modern è inutile che poi ti lamenti sono morto a turno 3 perché tu accetti il fatto quando fai una partita in quel formato che puoi morire a turno 3 e che non puoi come si dice con la side coprire tutti i mazzi che ci sono perché è impossibile voglio però che siano gestiti questi formati secondo il loro spirito e secondo quello che vogliono gli utenti io per esempio sono un grande lo sanno tutti come si dice spero che succeda che sbanni uno splinter twin perché se Omnath è un pericolo beh qua in risposta a scombo direi che è chiara la nostra posizione su uno splinter twin diamogli un nemico importante capito comunque detto questo io spero veramente che non posso rispondere a questo tanto perché non posso ma ho una speranza visto che con Zendigan Rising è andata bene è stato bannato Omnath subito e poi ragazzi il formato standard è formato adesso ottimo si 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 gira il meta ogni volta c'è una risposta a un deck nuovo che si forma quasi o chiaramente adesso è un po' stantio c'è gennaio perché Caldame lo rivoluzionerà quindi la mia speranza è zero banni standard in tutto il 2021 io spero nel banni euro è già stato bannato il standard no in historic scusami ah ok quindi banni in historic banni in historic no no io ti dico partiamo col 2020 banni euro e ce lo togliamo e buona notte al secchio poi standard vedremo non lo so vediamo anche lì i dati non ce l'ho io ce l'hanno loro secondo me se il formato fosse davvero polarizzato come la gente dice o pensa l'avrebbero già bannato è una carta troppo forte cioè fortissima ma forse non è troppo forte il problema di quella carta secondo me la shell che lo gioca cioè sul time mid range che è davvero non finisce male carta ha sempre tutto in mano non ha una carta che lo ammazza quello è il problema non c'è una carta di side contro sul time mid range che gioco di side contro di te è questo niente non funziona niente e detto questo non lo so non lo so a me uno è una carta che comunque tendenzialmente in historic piace perché può aprire a determinati modi di deck buildare che se no non esisterebbero che sono modi basati sul cimitero che magari tu te la vuoi proprio millare quella che a me piace tantissimo l'interazione tra emry puoi giocare a croxa vai su ractos gioca comunque ti ripeto la mia speranza è zero bann in standard in tutto il 2020 non succederà mai quindi secondo te hanno capito la lezione senti l'andazzo vecchio è stato incredibile il 2020 è stato il 2019 è stato incredibile anche il 2020 hanno cancellato una meccanica per la prima volta nella storia non cancellata a me sembra che Zendikar Riding sia proprio quel set che volevo forte ma bilanciato si esatto ma riesce a rimanere comunque sia giocabile quindi però finché non vediamo diciamo che dagli spoiler di Galdem che ci sono fino adesso siamo ok è tutto ok è tutto ok ce la faremo va tutto bene ce la faremo va tutto bene e usciremo migliori pensa se su Strixhaven tornano i Companion io sarei contento col nuovo rework della meccanica oggi eh però quella meccanica vecchia ribaltano di nuovo ritornano e torniamo tutti con Lurrus va bene dai abbiamo sparato tanti hot take sì oggi veramente mamma mia allora le fai tu le scuse per la playlist le faccio io no le facciamo insieme scusate perdonateci però 2021 ripartiamo bene con sta playlist capo pieno di cenere lo vedete in verità è capelli bianchi non abbiamo aggiornato la playlist con i temi che avevamo assegnato siamo stati poco forse troppe canzoni ci siamo andati sì ogni volta 5 era complicato con il tema però adesso aggiungiamo un po' di canzoni sia io che lo zio caro e poi ripartiamo di sludge questo è il buono proposito per l'anno 2021 esatto e poi giocare meno a magic o di più no ovviamente di più sì draftare di più anche no questo è un buon proposito per l'anno nuovo buonissimo proposito dai direi che abbiamo sparato io ho sparato dei predict incredibili la stratosfera proprio mamma mia non vedo l'ora di vedere Innistrad perché non riesco a capire sta cosa dei due set vedremo tra poco ci leveremo queste curiosità quindi allora però noi avevamo sempre una puntata con l'ospite la chat da da fissare fissiamola oggi da fissare giusto quindi prossimo episodio il prossimo episodio domenica 10 domenica 10 ore 14 che è l'ora in cui in risposta scombo va online sulle varie piattaforme sarà invece domenica 10 sul canale twitch di simo insieme a voi l'avevamo annunciato da un po' di settimane andremo live e risponderemo chiacchiereremo con voi esatto tutte le domande che ci fate ci rispondiamo in live questa è l'idea sì mi piace e poi ricarichiamo ovviamente su youtube però vediamo dipende aspetta io non sono così sicuro di ricaricarla su youtube perché dipende quanto diventerà lunga e anche questo in ottica poi piattaforme tipo spotify eccetera perché dipende essendo che stiamo a interagire con la chat su twitch magari va per le lunghe e diventa un po' complesso vediamo rimaniamo che sarà live su twitch da simo domenica 10 ore 14 quindi ok a posto va bene ci piace ci piace e mi raccomando allora se volete la vostra dose di risposta scombo dovete venire sul canale a questo punto durerà di più e avrà appunto come protagonista e come ospite la chat la chat farà domande darà delle opinioni opinioni che volendo potete anche venire a difendere su discord sì volendo sì se vi mostrate ragionevoli in chat ma sì sono tutte persone normali banniamo Simone banniamo Simone è importante essere normali ragazzi mi dovete dire simp che sennò è così va bene e allora ci vediamo domenica prossima in diretta ciao ciao Grazie.